Claudia Crippa dell'azienda agricola La Costa ci parla delle caratteristiche del rosmarino di Montevecchia. Buongiorno a tutti, questo che ho qui alle mie spalle è il rosmarino di Montevecchia, che è una cultivar che si è ambientata proprio sulle nostre colline a partire dagli anni sessanta soprattutto, 1960. Deriva da una varietà vicentina che era molto resistente al freddo ed è stata portata qui e probabilmente dal mercato, dall'ortomercato di Milano e si è insediata molto bene a questa nostra marna calcarea che è molto ricca di sali minerali e che di conseguenza dà un rosmarino molto concentrato e soprattutto in oli e in canforati, in oli canforati, è veramente diciamo che la caratteristica principale è quella di avere questa nota balsamica molto importante e di avere soprattutto delle caratteristiche di concentrazione che, così, gli esperti e le ricerche che sono state fatte grazie anche all'Università di, la Facoltà di Agraria di Milano, hanno trovato insomma delle caratteristiche che poi si ritrovano a latitudini molto più a sud, quindi bisogna andare verso la Liguria o addirittura in Sardegna per ritrovare queste concentrazioni importanti. Al prossimo episodio Grazie a tutti